Buonasera, in questo, oddio che è tutto attorcigliato, ma in questa sera ma molto frida ringrazio chi è uscito di casa per venire qua a vedere questo film. Uno dei nostri lungometragi in concorso, il regista del film che dovrà essere qui stasera si scusa molto, ma stamai ci ha fatto sapere che purtroppo non poteva esserci, ma vi saluta. Il film è un film molto bello che si chiama Sold, è prodotto anche da Emma Thompson, tra gli altri. E non abbiamo un regista, ma siamo felicissimi di avere qui una delle attrici protagoniste, Mirja Naik. Allora voglio un po' praticare il suo italiano, quindi adesso vi dirà qualcosa. Ciao, bella gente di Frenzi. Quindi, questo film, io spiego il ruolo di Anita nel film, sono un attore, ma ero così emozionata dalla causa che sono anche un produttore associato per il film, perché volevo fare ciò che fosse fatto, per assicurare che è stato fatto. Allora, in questo film, oltre ad interpretarlo, perché questo è il mio lavoro, la causa, diciamo, l'argomento e la causa di questo film è così appassionante, che ho deciso anche di partecipare alla produzione del film. E con l'esperienza di film e di essere involvata, è stata davvero una esperienza cambiata per me e anche una esperienza cambiata per tutti gli altri che sono involvati con il film. Antecipare a questo film, lavorare a questo film è stato qualcosa che mi ha cambiato la vita ed è stata la stessa cosa che è successa a tutte le persone che hanno lavorato questo film. E spero che questa proiezione abbia su di voi lo stesso effetto che in qualche modo cambi la vostra vita e trovo che sia particolarmente appropriato che la proiezione avvenga oggi, una giornata dedicata ai diritti umani. Sì, noi abbiamo scelto di proiettare questo film, una scelta consapevole, proprio nella giornata di oggi. It was our intentional choice to screen this film today, on the day of the dedicated to the human's right. E ricordo che oggi è anche il giorno in cui Kailash Satyat riceve il Nobel per la pace. It's also the day that Kailash Satyat is receiving the Nobel Prize for Peace. Oggi, today. Quindi, thank you, Nidja. Nidja sarà qui dopo la proiezione del film. Nidja sarà qui dopo la proiezione del film. E quindi buon film, ci vediamo dopo. Ciao, Nidja. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.